Come and get it! L'iPhone 5 è la novità dell'anno, diciamo. Ogni anno vi presentiamo sempre il solito cell. E voi non ve ne accoggete? L'idea dell'iPhone 5, ovvero dell'iPhone allungato, è perché avevamo voglia di usarlo anche come vibratore. È una figata, perché non si ha di bisogno neppure del Viagra, xdddd, xdddd. Guardate che brutto, scusate, volevo dire bello, lungo e fino come i nostri peni, e i nostri peni. Lo schermo è stato migliorato del 40%, perché vogliamo vedere i videoporno con la qualità superiore possibile, e più grande possibile xdddd. Le xdddd, come avrà detto il mio collega, che serve come la scorsa versione per i videoporno, ma in più abbiamo triplicato la qualità per farli vedere meglio ed è incredibile. I nostri prodotti sono fatti in Cina ed è per questo che hanno un miliardo di difetti, ma da questo iPhone in poi non ci saranno più, forse. Guardate questo sito art come si vede bene, clicchiamo e possiamo comprare un film di Rocco instantaneamente senza aspettare, senza aspettare. Abbiamo integrato due tecnologie, LTE, lato TEPT economiche, e CDMA che sarebbe, coglione di merda automatico. Questo unito in un unico chip, e serve per prendere per il culo la gente che vi sta accanto. Un esempio, uno che ti prende per il culo e si ridirà. Si ridirà. Sei una testa di cazzo. Cazzo. Grazie al multitasking si ha la possibilità di cambiare video auto ogni volta che vorrete. Rete. Ecco, ora vi mostro l'attrezzo con cui allimmiamo i cazzi, volevo dire gli iPhone. iPhone. E' molto delicato, gira da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, e poi fa su, giù, 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 ovviamente la scena è stata censurata. Compratelo, costa solo 729. 9 euro. Grazie a tutti.